Danise, uno sguardo al centro, poi il tocco per Reginaldo che prova il numero, lo effettua, grande giocata, ancora Reginaldo sta crescendo, Reginaldo destro, grande gliardi e poi la rete, no, Paloschi in fuorigioco, pallone che sembrava dentro, ma cosa è successo grazie a Reginaldo? Reginaldo in questo, Paloschi che però era in fuorigioco, ma vediamo che la rimessa...